Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carla Cutis durante i suoi quindici anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato Angelo della gioventù. Concedetemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Qui si formula la grazia che si vuole ottenere. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Beato Carla Cutis che non hai mai dissolto lo sguardo da Gesù. Il tuo grande amore, dammi la grazia di vivere già in questo mondo, questa vera felicità. Amen. Si recitano cinque Padre Nostro, cinque Ave Maria e cinque glorie al Padre e ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei quindici anni della sua vita terrena. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e non ci indurre in tentazione. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu l'hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Ocarestia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria, come madre amatissima. E ne hai fatto col Rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri, che egli ha amato e soccorso, e anche a me, concedi nella sua intercessione la grazia di cui ho bisogno. Rendi piena la nostra gioia, ponendo Carlo tra i santi della tua santa chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Mamma Antonia racconta Carlo diceva, non perdete mai la speranza, anche nei momenti difficili. Carlo nella sua breve vita ha fatto tante cose senza mai sprecare un attimo. La sua fede lo faceva essere il lungimirante e lo portava a investire sul futuro. La tristezza diceva, è lo sguardo rivolto verso se stessi, la verità è lo sguardo rivolto verso il futuro. Era un bambino generoso, sensibile, curioso, amava la lettura, a quattro anni leggeva. Entrare in chiesa, pregare, fare la comunione, dire il rosario, l'amore per il prossimo, tutto questo, fatto quotidianamente, è venuto spontaneamente da lui. Carlo era allegro, simpatico, diceva tante cose. Noi lo ascoltavamo e ci facevamo caso il giusto. Aveva predetto anni prima come sarebbe morto e dopo la sua scomparsa trovai il video, girato due mesi prima, in cui lo annunciava. Aveva una grande capacità intuitiva e spesso parlava di cose prima che accadessero. Perché non so. So che ha vissuto una grande dimensione spirituale ed una vita coerente. Segni, tanti, continui, il più bello. Mi è apparso in sogno dicendomi che sei restata di nuovo mamma ed oggi ho accanto a me i due gemelli che sono arrivati undici anni fa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Grazie.